Pistola a molla 1911 a 1 è una splendida replica della Cyber Gun replicata molto bene perché ha tutti i loghi originali come andremo a vedere infatti, oltre ad aver modificato il vivo di volata mettendo questa parte solo rossa non dipingendola tutta la pistola si presenta molto più accattivante i loghi sono incisi qui stampigliati e anche sull'altra parte abbiamo i loghi sia incisi che stampigliati qui è il rilievo il cavallo tipico della Colt il corpo è in metallo la parte superiore totalmente in metallo poi abbiamo le sicure funzionanti l'estrazione del caricatore questa pistola ha un peso intorno 539 grammi che la rende molto molto verosimile questa parte qua è in metallo si arma in questa maniera come quella vera ha un bel colpo, una bella molla ha il sistema BAX che sarebbe il lock up 12 palline di capienza la potenza è intorno ai 100 metri al secondo è uno 0,6 joule un'ottima replica bella da vedersi e molto bella da usarsi grazie a tutti